Adesso è volato un po' da qualche parte, ma silenzio di voi, e continuerai a imparare qui, tra tutti i eroghi, il comore delle nostre vite. Ciao papà, ciao mamma, di ogni buon tempo. Grazie mille. Forse che sta, la risposta che la figlia del Pirella non mi ha dato, la doveranno a loro. Grazie a loro, e adesso con le musica, con la niente rarissima, un proprio sparanda, e tante volte, quando era grande, quando si era andato in giro, e ha fatto un grande buono di finire a casa, a suonare solo con lui. Io sono in reggione, io ho finito in questionata, ma per la loro testa volvino il cuore, per la memoria e per il futuro. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.